Benvenuti su Gossip Globe. Prima di iniziare, ricorda di mettere like, seguire il canale ed attivare la campanella per restare sempre aggiornato. Flamorosa notizia su Armando incarnato di Uomini e Donne. Ha ritrovato l'amore con una ragazza molto più giovane. Dopo l'esperienza Uomini e Donne, Armando avrebbe conosciuto una nuova fidanzata, segnalata da Deyanira Marzano. Armando ha lasciato Uomini e Donne da tempo. Le voci dicono che si è stabilizzato sentimentalmente con questa nuova ragazza. Una segnalazione social dice Un'altra segnalazione conferma L'ultima segnalazione rivela Armando sta con Noemi a 20 anni in meno di lui. Stanno insieme ufficialmente già da tempo. La presentazione in famiglia sarebbe già avvenuta, ma mancano foto insieme. Attendiamo ulteriori dettagli. Alcuni rumors lo volevano nuovamente sul trono di Uomini e Donne. Tu come pensi che andrà a finire? Scrivicelo nei commenti. Grazie. Grazie.